Oggi è una giornata molto importante per Albenga, importante perché viene presentato quello che credo sia un progetto che siamo riusciti a concludere, tra l'altro primo comune nella provincia di Savona, determinante per la città sotto tanti punti di vista. Intanto voglio complimentarmi, qua vicino a me c'è il consigliere che va alla delega della pubblicazione, Maglio Boscaglia, perché se ci siamo riusciti a arrivare è grazie alla sua forte determinazione insieme agli uffici comunali e alla collaborazione con la provincia perché insieme abbiamo portato avanti un percorso non semplice. Perché è importante? Perché grazie a questo progetto noi riusciamo da un lato a ridurre i costi e quindi questo chiaramente è importante, però anche ad aumentare le prestazioni perché ci saranno luci più performanti, perché saranno tutte luci a led e quindi daranno migliori risultati. Riusciremo a dare da un punto di vista ambientale una risposta molto interessante e importante perché chiaramente ci sarà una riduzione dell'impatto e quindi questo anche è decisivo, soprattutto in un periodo in cui l'ambiente tutti ci rendiamo conto che va tutelato. In più avremo risposte anche per quanto riguarda la sicurezza, perché tanto illuminare di più perché con questo progetto noi riusciremo a dare nuovi punti luce e incrementare alcune zone che magari non sono adeguate e altre zone, soprattutto nelle frazioni che proprio non hanno vie illuminate, saranno illuminate. Quindi questo è già sicurezza. In più avremo 100 nuovi impianti di videosorveglianza e anche questo chiaramente in termini di sicurezza è decisivo e poi non dimentichiamo che molti monumenti della nostra città verranno illuminati in modo particolare proprio per valorizzarne ancora il risultato e quindi penso veramente un grandissimo risultato. Parte, partirà a breve e a noi fa piacere essere riusciti a completarlo.